ciao amici siamo nella stagione della mela grana a noi piace moltissimo io la adoro mi piace così tanto che in questo video mi sono mangiato un piatto intero di chicchi oggi vediamo insieme otto straordinari benefici della mela grana se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 super nutriente la mela grana è un super food ricchissima di nutrienti come fibre proteine vitamina c vitamina k affolati e potassio 2 antiossidanti i grani dal colore rosso rubino contengono due principi attivi vegetali dalle potenti proprietà antiossidanti sono le punicalgine e l'acido punicico uniche punicalgine sono dei fenoli cioè principi attivi vegetali hanno un potere antiossidante straordinario tre volte superiore a quello del vino rosso l'acido punicico è un acido grasso ricco di acido linoleico benefico 3 anti infiammatoria secondo numerosi studi medici la mela grana è efficace nel prevenire disturbi infiammatori come malattie cardiache cancro diabete di tipo 2 alzheimer obesità 4 cancro alla prostata una ricerca ha dimostrato che bere un bicchiere di succo di mela grana ogni giorno riduce di quattro volte la concentrazione di psa uno degli indicatori di rischio di cancro alla prostata 5 cancro al seno a dicevo solo per gli uomini buone notizie anche per noi donne ci sono studi di laboratorio molto promettenti secondo cui l'estratto di mela grana rallenta la proliferazione tumorale e aiuta il corpo a distruggere le cellule malate 6 pressione alta bere 150 ml di succo di mela grana ogni giorno per due settimane aiuta a ridurre la pressione alta secondo uno studio scientifico condotto su pazienti con ipertensione 7 artrite e artrosi i potenti antiossidanti e gli acidi grassi essenziali contenuti nel melograno sono risultati efficaci in laboratorio contro artrite artrosi e osteoartrite grazie al potere di bloccare alcuni enzimi che danneggiano le articolazioni 8 disfunzione erettile secondo una ricerca condotta su 53 pazienti con disfunzione erettile il succo di mela grana ha favorito la circolazione sanguigna anche nelle zone colpite riducendo i sintomi wow benefici per lui e per lei certo poi è deliziosa se non avete tempo di sgranare la mela grana fatevi fare una spremuta al bar o acquistate il succo bio oppure comprate lo spremitore per fare il succo a casa velocemente se volete sapere perché la chiamo mela grana e non melograno andate a vedere il mio video per tanti altri video sui benefici degli alimenti di tutti i giorni basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto se youtube non vi avvisa andate nella home del canale perché pubblico ogni giorno mangia sano e vivi meglio diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri e debù per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ciao